pepe carriese rammatronchese questo ma vai mettere un po' io lo faccio, mi sento un po' ma dov'è nero? è qui lato vuoi tenere qualcosa? fammi lui! puoi tenere il telefono per 30 euro vai bene! vai che fai come a me, nessuno che io ero, non fai nero do oh garri oh garri per me la parte, non ti mossa, manaccia manaccia oi, pepe scusi garri garri esce la sera dai, ci fa dai, da vale... pari ma non ho vittimo comunque in internet pari ma non ho vittimo ancora in internet